. Grande fratello, urla per Cecilia e Ignazio fuori dalla casa, Rodriguez nel panico, Moser cita Belen. Grande fratello Vip, piovono urla per Cecilia e Ignazio fuori dalla casa, Rodriguez nel panico, Moser cita Belen. . La polemica attorno a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è talmente tambureggiante, stridente e rumorosa che ha raggiunto i diretti interessati nel reality. . 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 Sì, però non si è capito niente. Passa qualche minuto e la neocoppia rimane sola. I loro visi trassudano preoccupazione. Cecilia è spaventata e silenziosa, Moser cerca di consolarla, non preoccuparti. Cosa vuoi che sia? È gente che non sta bene col mondo e se la prende con gli altri. Largentina stringe la mano al suo uomo, ma continua a rimanere muta e impaurita. Il ciclista cerca allora di essere più convincente, dovresti aver imparato da tua sorella, Belen, NDR. . Quanta gente cè che la insulta gratuitamente. . Tanta, ribatte la Rodriguez, con lo sguardo che si perde nel vuoto. Poi aggiunge Amara, ma io forse non sono mai stata pronta per questo. . Cecilia e Ignazio finiscono nella burrasca, l'episodio dell'armadio. . La burrasca da cui sono stati investiti Moser e la Rodriguez si è scatenata dopo che sul web si è divulgato in una mani il video in cui i due si sono appartati nell'armadio, consumando intimità troppo spinta secondo la maggior parte del pubblico del reality. . . Un fatto che addirittura ha fatto balzare l'hashtag cancelletto Cecilia e Ignazio fuori nei trend di Twitter. . Nel frattempo il ciclista ha anche un'altra brutta gatta da pelare. . 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